Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un professore teramano di 54 anni è finito oggi agli arresti domiciliari per violenza sessuale. Avrebbe molestato e palpeggiato tre studentesse tra i 14 e i 15 anni. L'insegnante lavora in un istituto superiore del capoluogo. La misura cautelare eseguita questa mattina dai carabinieri si è resa necessaria per scongiurare il pericolo eventuale di reiterazione delle condotte illecite da parte del docente. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti a scuola tra l'ottobre del 2021 ed il febbraio del 2022. Le scrupolose indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Teramo e coordinate dal sostituto procuratore Greta Loisi hanno registrato il contributo della direzione scolastica del personale docente e degli studenti direttamente o indirettamente coinvolti che hanno collaborato con gli investigatori consentendo di fare rapidamente luce sulla vicenda. I militari dell'arma, oltre ad eseguire l'arresto, hanno proceduto al sequestro dei dispositivi informatici nella disponibilità del docente al fine di approfondire l'attività investigativa.